Ah, non merito tanto applauso, Jean Brun, è stata mia ispirazione. Ho scritto questo piccolo operino per Jean Brun. Grazie, Jean Brun. Bravo. Bravo. Merci. Vi faccio i miei sinceri complimenti per il virtuosismo del cantante e la maestria del mimo. Sorprendenti. Però dopo gli argomenti discussi a tavola, non vi stupirete del mio dissenso, del mio assoluto dissenso per l'idea che è alla base del vostro suggestivo colletto. Vicky?